Una tragica fatalità è quella che è costata la vita a Marino Scalabrini, 64enne, residente a Omenia in via Mazzini, ma originario della Vallestrona in particolar modo di Massiola. L'uomo, nel pomeriggio di ieri, era insieme al nipote in una baita all'Alpe Piana Ferrera, nei pressi dell'abitato di San Bughetto, a circa 10 minuti a piedi dal paese. I due erano impegnati nella ristrutturazione di una baita quando all'improvviso il pavimento che stavano posando è ceduto, facendo precipitare Scalabrini dal primo piano. Vista la difficoltà di raggiungere il luogo, sono intervenuti per il da soccorso gli uomini della decima delegazione del soccorso alpino a piedi con l'ausilio di un dottore. L'uomo è stato trasportato in paese con un'apposita barella e da qui l'ambulanza lo ha trasferito al Castelli, dove è ispirato in serata, visto che le condizioni erano sembrate subito gravi. Marino Scalabrini era una persona conosciuta nella Valle dei Pinocchi, operaio in pensione da diversi anni, aveva lavorato in varie aziende del territorio, tra cui la Girmi, l'Agostina, la Benberg e l'Un'azienda di San Maurizio. Persona genuina e stimata suonava nella banda alpino di Massiola, lascia la moglie Anna e una figlia Elisa.